Niki Giussino, il disturbatore televisivo per antromasia www.niki-giussino.it sta andando in onda in questi istanti su canale 5 la seconda puntata di Coca-Cola Summer Festival 2014 stiamo assistendo alla favolosa voce di Deborah Jurato che cosa ne pensate? scrivetelo nei commenti, cliccate vi piace al video, condividete il video e se vi va iscrivetevi al canale se proprio volete visitate anche niki-giussino.it salve!